Fuori frigo! Fuori frigo! Le voci di Fabio Alizei, Paolo Noiz e Wender commentano i più esilaranti home video degli ultimi anni. Qualcuno che si farà del male. No, ma che bastardo! No! La stessa scena l'ho vista in un porno! Fuori frigo! E tutti vissero felici e contusi! Fuori frigo! L'umanità fa schifo! Dal 19 marzo alle 21, solo su DJTV!